Episodio 9 del corso di VBA, oggi parliamo dei commenti. Sembra stupido l'idea di commentare il codice, ma in realtà ci sono dietro una serie di motivazioni e soprattutto ci sono metodi diversi per farlo. Allora, cominciamo dalla cosa più semplice, che cos'è un commento? Un commento è una riga di codice che non viene letta dal programma, vi faccio vedere. Se io sono qui e scrivo range a1 value, faccio così, punto value uguale a Carlo, perfetto. Faccio partire questa bellissima macro, sono a posto, quindi tutto ciò che c'è scritto qua dentro viene letto. Che cosa succede? Che se vado a mettere un commento e scrivo ad esempio sempre range a1, chiudo virgolette, punto value uguale nonna e questa qua per ora la togliamo, vedete che è diventato verde, perché? Perché indica un commento. Se io faccio partire, mi metto proprio qua sulla riga, faccio partire e non succede niente, continuo a fare play, non succede niente. Quindi i commenti sono righe che vengono saltate da VBA praticamente, non le legge, dice ok, sono commenti, non mi interessano. Allo stesso modo, fatemi commentare un attimo qua, io posso scrivere Ciao, sono Edo, molto bene, è un commento, faccio partire e non succede niente, ma se scrivo Ciao, sono Edo qua dentro, faccio partire e ho un problema. Vedete? Perché qua dentro VBA dice ok, è un commento, sta scrivendo quello che vuole, può anche dar di matto, chi se ne frega. Qua dentro mi dice, wey, io sta roba qua non la conosco, cioè questa sarebbe una procedura? A me non sembra. Quindi i commenti sono letteralmente righe che non vengono riconosciute dal programma, cioè vengono riconosciute come commenti e vengono saltati. A cosa possono servire i commenti? Beh, innanzitutto i commenti possono servire a noi stessi e a persone che lavorano con noi, per dire sto facendo questo, sto facendo quest'altro. Ad esempio, innanzitutto diamo nomi seri alle macro. Macro bellissima è un nomosceno, è ridicolo ed è poco professionale, quindi dovremmo avere il nome che spiega, formattazione header tabella, formattazione righe tabella. Già il nome deve essere di per sé eloquente di ciò che sta per succedere, in primis. In secondo luogo, abbiamo comunque delle macro che possono essere abbastanza lunghe, oppure vogliamo spiegare la macro qua in alto, quindi i commenti ci permettono di spiegare che cosa stiamo facendo. Poniamo il caso che questa non sia semplicemente un range nonna e un range carlo, ma si tratta di qualcosa di un po' più complesso, e io dico, qui vado a prendere i valori, dopodiché vado a capo, ho altre dieci righe, e scrivo, qua vado a formattare, vado a formattare. Di conseguenza, quando poi tornerò a leggere il codice più avanti, pensate tra una settimana, tre mesi o quello che è, anche se non mi ricordo più il progetto, perché un conto è se ci lavorate tutti i giorni, è facile ricordarsi che cosa stiamo facendo se ci lavoriamo tutti i giorni, ma una volta che con la mente siamo su altro e dobbiamo tornare, non è così facile ricordarsi, riusciamo a leggere il codice, ma magari diciamo, ok, ma perché abbiamo fatto questo, ma perché abbiamo fatto così, poi magari siamo anche migliorati, quindi il codice è anche cambiato nel frattempo, scriviamo in modo diverso. Quindi uno col commento dice, ok, questa è una macro che fa cose bellissime, il nome dovrebbe essere sul pezzo, ok, qua vado a prendere i valori, in realtà li sto andando sufficiente a modificare, ma giusto per fare un esempio, qua vado a formattare, qua faccio schifo, eccetera, eccetera. Quindi i commenti servono a noi, innanzitutto, per capire che cosa sta succedendo se ci torniamo più avanti nel tempo, per il futuro noi. Vedete i commenti come un qualcosa per il futuro noi. Se facciamo bene il lavoro fatto adesso, quando ci torniamo, uno dice, ah, bravo Edo, come hai lavorato bene, ti ringrazio. Ma se invece non scriviamo le cose giuste, i nomi sono a caso, eccetera, eccetera, no commenti, uno torna e dice, ma chi è che ha fatto sto lavoro qua da imbecille? Ah, io. Bene, benissimo, bravo Edo, continua a lavorare così. Quindi sono due approcci totalmente diversi, noi vogliamo semplificare, cioè, scrivere il commento adesso, non ci costa niente, ma ci semplifica la vita di 10, 20, 30 minuti, quando ci dovremo tornare. Non scrivere, invece, il commento adesso ci salva 10 secondi, ma poi ce ne farà perdere 30 di minuti quando torneremo. Va bene? Quindi questo è per noi. In secondo luogo, il commento è per le altre persone. Quindi pensate se altra gente deve cambiare il vostro codice, o magari lavorate per qualcuno, cambiate lavoro, qualcuno entra al vostro posto. Se avete fatto un buon lavoro, la persona arriva, e chiaramente è una persona anche con un po' di skill, arriva e dice, ah, ok, macro che formatta le colonne della tabella. Perfetto, quindi so che è questa. Poi, qua vado a prendere i valori. Eccellente, bravo. Quindi fa questo, ok, certo. Poi qua vado a formattare. Bene, bravissimo. Se invece voi lasciate il codice scritto a vanvera, così che non si capisce niente, la persona avrà difficoltà. Quindi la stessa cosa che succedeva a voi, può succedere all'altra persona. La differenza è che l'altra persona che arriva, o chi collabora con voi, non sa come ragionate voi. Voi scrivete il vostro codice, ma magari qualcuno scrive in modo diverso. Quindi non perde magari 30 minuti, ma perde 2 o 3 ore. Capite? Sono ore produttive. Quindi i commenti possono servire a questo. Come si fanno i commenti? Lo vedete? Si fanno con il singolo apice. Non importa dove io vada, se metto il singolo apice, sto commentando. Vedete? Bam. Ovunque io vada è un commento. E uno potrebbe dirmi, Edo. Ma se io volessi commentare più righe insieme, nessun problema. Non possiamo però farlo a mano, cioè non possiamo prendere così e mettere questo. Vedete che non funziona. Come possiamo formattare velocemente? Allora, andiamo su modifica, scusatemi, visualizza, barre degli strumenti, andiamo su modifica, e prendiamo, vedete, questa barra aggiuntiva, e la piazziamo qua nella barra appunto degli strumenti. E quello che ci interessa è commento e rimuovi commento. Se io vado qua e faccio commento, bam, rimuovo commento. Uno potrebbe dire, ah, ma se commento e poi ripremo, me lo toglie. No, non funziona così. Più continuo a premere, più mi aggiunge commenti. Quindi c'è commento e rimuovi commento. Nessun vi è età di commentare velocemente così, e poi scommentare, togliendo voi direttamente l'apice. È solo per farvi vedere che, se volete commentare più righe di codice, prendete tutto, tac, commenta e siete a posto. Altrimenti vi dovete mettere voi a mano a fare apice, 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 apice. Ora che abbiamo visto cosa sono, cosa servono e come si fanno, vi do giusto giusto un'altra piccola chicca che, se non avete mai programmato, non potrete sicuramente sapere. I commenti sono ottimi per rimuovere temporaneamente una riga di codice dall'essere eseguita. Mi spiego meglio. Voi vedete che io qua faccio determinate cose, giusto? Ho il mio range, inserisco il valore e quant'altro. Ma poniamo il caso che io vada a cambiare il font, quindi anziché scrivere nonna e Carlo, scrivo nonna e cambio il font. Va bene? Quindi faccio partire. Perfetto. Poniamo il caso che però quello che abbiamo scritto non è questa semplice riga, è qualcosa di un po' più complesso. E vogliamo testarla. Ah, mi dà errore, ah, non capisco cosa succede, a livello logico sto impazzendo, perché scrive nonno anziché nonna. Non si capisce. Va bene? Qua è semplicemente un valore visibile, perciò capiamo se abbiamo sbagliato, ma voi pensate a tante righe di codice. Per andare a debuggare velocemente senza impazzire, uno potrebbe dire sai cosa c'è? Intanto qua cancello e cambio anche qui perché sennò mi resta il rosso. Sai cosa c'è? Fammi un attimo commentare questa riga e vedere se non si spacca il codice. Da qua faccio play e vedete che ho cambiato il range 3, quindi A3. Mi ha scritto nonna, ma non mi ha commentato, ma non mi ha messo il font rosso. Va bene perché? Perché il commento ha tolto questa riga dall'essere eseguita. Ok, non era questa riga, è tutto a posto. Boom, sono così, faccio ripartire, ha scritto nonna e l'ha messo in rosso. Quindi il commento, oltre che essere utile per noi stessi del futuro e altre persone che lavorano con noi o chi verrà dopo di noi, sono anche utili per velocemente andare a togliere macro, righe di codice, eccetera, eccetera. Va bene? Quindi, questo è quanto. Nel prossimo video parliamo nel dettaglio dei metodi. Ci vediamo tra poco.